Salto di Antonini, trova ad arrivare Paulsen e disturba in qualche modo Corriello, ma la che diventa buona per Seder, quindi Antonini, Antonini è fata, Antonini, Antonini, destro, 1-0 Milan, ed è la gioia per Antonini, ma grande per più caricazione lo Sonelli. Centralmente, ancora una volta, sia per la difesa, ma sia per il centrocampo dell'Uentus, è bastato un non dai e vai, molto bravo Antonini, con grande decisione, è partito centralmente, ha aspettato anche il ritorno di Cannavaro, ha cercato di ostacolare, forse ha sforzato anche la palla, ma il pallonetto ben fatto in fondo. Grazie a tutti!